Ed eccomi a Castrovalva, bellissima, suggestiva, tutto in perfetto ordine, in perfetto ordine. Allora qui sotto ci sono le gole del sagittario. Castrovalva, frazione di Ambersi degli Abbersi. Adesso continuo a scendere qui, vediamo dove conduce. Ah, ma qui non scendo, se non so ne ho troppo tempo. Comunque qui c'è il bel vedere. Vediamo un po' qui cosa c'è scritto. È difficile, ma se becco qualcuno a fare i propri bisogni, qui fuori sono a fare i suoi. Beh, 1912. Sinceramente, qualche sporcaccione che viene a fare i bisogni suoi non sta bene. Scendo un po', ma non di più. Allora, qua si scende e scende e poi si risalde, non so. Questa è volata, vedete quello dal tetto. Ecco qui. Guardate un po' il bel vedere.